Rifiuti abbandonati. Cosa sta succedendo a Bassano? Da quando c'è la nuova raccolta porta a porta qualcosa non funziona. O c'è chi non la trova comoda, oppure c'è chi non ha capito come funziona. Purtroppo però, con una certa negligenza, qualcuno, sempre più spesso, lascia i sacchi delle immondizie negli angoli delle strade. Ed è tra... che fa? Li raccoglie? Nemmeno per sogno. Guardate, i nostri telespettatori ci inviano foto e video come questo, che testimoniano come Etra segua una procedura ben definita. Lascia un avviso con scritto, attenzione, conferimento scorretto, i vostri rifiuti non sono stati raccolti perché il sacco non è conforme, oppure è troppo pesante. Ma le immondizie non vengono raccolte nemmeno quando non sono correttamente differenziate, o il contenitore non è adeguato, oppure ancora è da sostituire. Legittimo se non fosse che così le pattumiere restano lì e si accumulano insomma, non è questa la soluzione. Etra continua ad attaccare sulle pattumiere mal conferite dei talloncini che spiegano a chi sbaglia cosa ha sbagliato, come se tutti i cittadini che gettano male i rifiuti, dopo essere stati adeguatamente redarguiti, si riprendessero i loro sacchetti, rimettessero le mani nelle pattumiere e sistemassero le cose. Purtroppo è una pia illusione. Noi insistiamo, non si può andare avanti così. E chiediamo, se Etra non raccoglie le immondizie, chi lo farà?